Buonasera a tutti, oggi vi voglio raccontare che sia un po' di tempo che mi capita di incontrare vecce che mi ringraziano perché dicono che ho fatto compagnia a loro con le trasmissioni del Covid. Ah, le famose conferenze. Incredibile, sai, un passo, una veccia, una veccia, un passo, un passo, una veccia. Ieri mi esaffermò la signora Froson, che ha 90 anni, che vive in un monolocae di 40 metri quadri, che si era triste, tanto triste perché non faccio più le trasmissioni del Covid. E gli era pure morto il gatto. E mi ho detto, grazie che mi ringrazia. Un altro passo, un'altra veccia. La signora Venansia Calandrin, credo, se ci chiamava così. Ma chi se ne frega di come si chiama? Venansia Calandrin, 102 anni, che sta in un monolocae di 18 metri cubi, che sono 3 metri per 3 per 3. Vabbè. 3 metri, 18 metri quadri sono 3. 3 per 3, 9 per 3, vabbè, sarebbero 27, non l'importo, 3 per 3. 3 per 3, per 3. 3 per 3, 9 per 3. 3 per 3, sono molti, è un seminario? Sono fermo su queste cose. No, numero primo. Numero primo. Il 3 è primo? Ma sì, è un numero primo. Allora, 3 metri. Sì, vabbè, non ce la fa capire 3 per 3. Vabbè, allora, vive, perché mi sono lanciato sul 3 per 3? Per 3, per 3. 3 per 3. 3 per 3 fa 9. Esatto. 9 per 3? Fa? Che aveva... Di 70. Ce la fa? Non ce la fa. Vabbè, Capul Santiera, questo che vocevo dire, che viveva Capul Santiera, vive in un montacari che ha ecocannone e poi giroango a signora Giantomasa, dei 125 anni, che vive in 40 cm per 40 cm, a San Belata in una tira del gatto. Mamma mia, mamma mia. Corpo! Ma sai che, Badin, pensandoci, la Giantomasa può fare la Soriano da signora Tombala Frosione. Ah, quella qui era molto grande. Eh sì, perché se vive in crescita, è incredibile, perché quando ti ve sui 125 anni e ossa, sarà un pisoisco, e ti diventa come un gatto, no? Ti crea le cose, ti ammucci così. Vabbè, comunque... Quello che doveva dire l'avrà detto, spero. Allora io, con tutti questi ringraziamenti delle vecchie, delle vecchie, delle signore anziane, per il mio formato sul Covid, goccia ma Netflix. Netflix addirittura. Dazon e Amazon. Perché qui, quei sono veneti, Dazon, Amazon. No, non sono veneti. E Maramount, perché sei morto. Per fare a serie... Una piattaforma... Zaire, 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 governatore in prima Ine. Ah, come Iar, Zaire. Allora, mi hanno attaccato tutto il telefono in faccia. E meno male. Ma lo pregià come un forse, mi. Non credo. Lo pregià come un forse. Sentiamo come va avanti. Sentivo che c'era interesse, sotto sotto, un po' lontano, magari. C'era un po' di interesse. Ma ora passiamo a Milano, Cortina. Che, come tutti sapete, ormai è una moda già morta e stramorta. Dai, non se ne parla più nessuno. Però, parlando dei cifre, voglio fare una presenza a Charles Conti. Parliamo una volta per tutti. Allora, noi su un miliardo e quattrocento milioni abbiamo avuto l'otto per cento che in cifra monetaria fa... No, aiuto. No, 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 non mi dite che va avanti. Un per otto. Un per otto, un per otto. È facile un per otto. Otto per otto. No. Un botto. No. Un botto per cento. No. Che fa otto. Uno per tutti. Tutti per 16. Otto per 16, 24, 33. Tutti a 33. Trote ando. Fia per due. Con il resto del quattro. Hai da darmi il resto del quattro? Ma cosa sta dicendo? Scusate, non vi muovete, per favore. Eh? Che mi fate perdere il conto. Ma perché devi inerpicarsi nei conti? Ah, sta andando via. Si sono già stufati dei conti. Se ne sta... L'ho tirata per lunghe. È un po' la cosa dei conti, sì. Anche voi altri, però, ve ne andate. Tutti? Ma come, se ne vanno tutti? Buon, ciao! Ciao. Divertitevi. Li saluta così. Vabbè. Ci siamo rimasti? Eh. Mi, ti e il tol de go? Ah, solo? In camia dov'è? C'è andata via anche il camia? No, non ci credo. Anche il camia è andata via. Non potremmo ciamare le vecce, dai. Cosa ti dice? Comunque... Vabbè, vada avanti lo stesso, spero. Tutti, via, guarda che deserto. Per i due che siete rimasti, passo al vero motivo di questa conferenza, che entri il Gabarzon! Cosa fa? Cosa starà facendo? Allora, che se è il motivo della conferenza? Se è il folpo! Il folpo! Guardate come sei bravo il Gabarzon a fare il forpo. Allora, mi voglio dire, il folpo se è la nostra cultura. Che poi è un polipo, no? Cioè, le nostre poesie. Sì. A folpo. Non credo esistano, eh? A folpo a cui tendevi a pargoetta man. Non credo esista, ma... Ed è subito forpo. Ed è subito forpo, sì. Mi raccomando però, perché il folpo deve essere quello nostrano. Ma chi se ne frega? Perché se è anche quello zoveno... Qual è? ...è il folpec. Ma... Che è di tentacoli. Ha otto tentacoli. Ecco, quindi otto. A differenza del nostro che non ha... Quattro. Ma... Sedici. Con i numeri oggi non ci siamo. Scusa, folpo. Sette per sedici. Quanto fa? Ma perché deve essere sette per sedici? Basta conciacerare. È meglio. Vai via, folpo. Iniziamo con l'impiattarlo. Ah, perché c'era proprio lì. Perché a me, caro, guarda qui cosa che avevamo qua. Il folpo. Allora, mi vi dico una cosa. Se si mette a tagliare. Il folpo, se è un ottimo... Eh, cos'è? Se è... Lo carb. Ah, basso per betrano. Ti te ne mansi un po'. Sì. Ti capiò? Sì. E ti demagrissi. Perché si mette a tagliare. Se è una cosa incredibile. Sì. Tra l'altro... Oh, ma perché deve mangiarlo, no? Bua. E sarà buonissimo. Come è buon il polpo. È buon il polpo. Di me. Ti posso sassarlo? Chi è che vuole... Ti ho tolto due piatti e ne faccio un. Erano solo tolto due boadì. Due. Come è? Allora. Sto porto? Ma è una conferenza. Un po' di olio. Chi è questo? Chi è? Chi è? Cameriera. Cameriera. Addirittura. Per tanti compadini, ti hai visto? Ah, vabbè. Mettete un po' di olio. Qualche gosso di limon. Ma chi se ne frega. Un po' di persamo. Dovete andare avanti con la conferenza. Vabbè. Ah, vedi? Cosa? Stanno rientrando tutti col polpo. Ah, ha sentito il profumo. Scusate, ma qua è famigie, no? Anche qua è famigie. Ma è una conferenza stampa. Quanti siete, Cameriera? Cento. È tornata anche Cameriera. Cento. Orpo. Non è la fiera dell'orpo. Non è del polpo. Dell'orpo. Va bene. Che è la comanda del tavolo cinque. Cinque polpo, tre polpo in bianco, una moeca e una pasta in bianco. Ok, grazie. Vai in sala. Ma cosa sta succedendo? Comodori, poi due colpi, il polpo con il sedano e poi quattro polpi al tavolo, sette con le olive. Allora, quattro polpi al tavolo, sette con le olive. Quanti minuti che avevo? È una conferenza stampa. 30 minuti. Tre minuti, sette. Quattro, tre, al tavolo, otto. Porta via, ragazzi. Stai a questo. Metti al tavolo. Vabbè. Ti sa che ti accelererà la conferenza. Sì.